Ripartiamo con la consapevolezza nuovamente che questo è un campionato difficile, che anche la puteolana che qualche domenica fa era sfacciata e giocava con 9 under, oggi ha messo in campo una squadra con tanti nomi importanti. Non ci sarà una ripartenza per Nicola Ragno, questa è la decisione presa dalla dirigenza del Bitonto all'indomani della sconfitta interna contro la puteolana nel recupero della dodicesima giornata del gruppo HD Serie D. Poche note in un comunicato ufficiale spiegano che la decisione è maturata al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti finora dalla squadra, con l'obiettivo di dare una svolta in positivo alla stagione nero-verde e raggiungere gli obiettivi prefissati. Tradotto, i 18 punti messi insieme in 14 partite di campionato e la decima posizione condivisa con il Molfetta, a meno 10 dalla Vetta, oggi occupata da Lavello e Picerno, che hanno però giocato due partiti in più dei nero-verdi, non sono stati ritenuti sufficienti per proseguire con la gestione Ragno. Il tutto nonostante le attenuanti, che certo non mancavano. Una stagione avviata in netto ritardo per le note vicissitudini legate alla giustizia sportiva, una rosa allestita in 15 giorni e poi completata in corso d'opera. Infine il Covid, che ha costretto la squadra a restare lontana dal campo per più di tre settimane. Ragno paga però la scarsa continuità di risultati, con un Bitonto mai andato oltre i tre risultati utili di fila e le ben sei sconfitte. Insieme all'allenatore Molfettese non farà più parte dello staff il collaboratore tecnico Giuseppe Alberga. Prendere il posto di Ragno in panchina è Valeriano Loseto, barese classe 1972 che torna in panchina dopo l'esperienza alla guida del Corato, delle giovanili di Bari e Fidelisandria, della Fidelis in Serie C e del Gravina nelle ultime due stagioni in Serie D. Con lui lavorerà parte dello staff tecnico che già assisteva Ragno, Gigi Anaclerio sarà il vice allenatore, Gianni Iurino è confermato come preparatore dei portieri. Salvo Acella sarà il preparatore atletico, toccherà a Loseto preparare la prossima partita trasferta domenica sul campo di un fasano reduce da quattro risultati utili di fila.